Quando è nato questo governo, ormai un anno fa, in molti auspicavano, al di là del contratto di convivenza, auspicavano un orizzonte comune del riformismo italiano. Da una parte spingeva Grillo, dall'altra spingevano i Bersani. Dopo un anno, secondo lei, questo processo è in atto o ognuno si fa gli affari suoi? No, non è in atto affatto. Purtroppo, devo dirlo con grande dolore, perché anch'io nutrivo questa speranza augurandomi che si mettesse in marcia un riavvicinamento tra il Partito Democratico e i Cinque Stelle in grado di fornire al governo qualche ipotesi riformatrice. No, non ce n'è il minimo segno. Ma chi è più reticente, i Cinque Stelle o il Partito Democratico, secondo lei? Tutti e due, nessuno dei due è sufficiente a fare da sé, nessuno dei due ha fatto le mosse necessarie per avvicinare l'altro, per spronarlo appunto a sedersi a un tavolo e davvero elaborare una strategia comune che sarà necessaria in autunno, sarà assolutamente necessaria, perché se qui centinaia di miliardi di debito servono a fare buche e riempirle di nuovo oppure a opere pubbliche tipo Mose o Ponte di Messina, siamo fritti, siamo totalmente fritti. Se servono ancora a sostenere le Alitalie, i ferri vecchi, eccetera, siamo morti. Vai su iloft.it e abbonati.